Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPI-Li per lavori, 3 km di coda in direzione Firenze tra Ginestra e Lastra, 1 km di coda sulla carreggiata opposta in direzione Mare, sulla A1 per lavori ci sono 2 km di coda in direzione Bologna tra Incisa Reggello e Firenze Imprunita, rallentamenti tra Firenze Imprunita e Firenze Scandicci e in direzione Roma per incidente, rallentamenti tra Chiusi e Fabbro, sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze Code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Beretola, code a tratti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1, in direzione Pisa Code in uscita a Sesto, sulla A12 per lavori in direzione Genova Code tra Massa e Carrara. Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, la città metropolitana di Firenze e il Comune di Firenze. Buon viaggio!